Ciao cari amiche di Fiera Creativa, eccoci qui per una nuova puntata dedicata alla creatività. Oggi la nostra ospite ci presenterà una tecnica veramente bellissima e nuovissima. La prima volta che vi presentiamo questa tecnica ma lascio subito la parola alla nostra ospite. Ciao, sono Giulia, rappresento il negozio velaggio del sogno e oggi vorrei raccontarvi e mostrarvi qualche dettaglio di una tecnica molto interessante, le novità di solito vengono da America, quindi scusate se utilizzeremo le parole inglesi, si chiama Better Press. È una tecnica che permette di timbrare, realizzare delle card utilizzando le placche. In questa volta diciamo non utilizzeremo i timbri per ottenere l'effetto così particolare, ma le placche di metallo. Le placche sono realizzate in metallo, quindi ci permettono di creare dei effetti molto particolari e non solo. È quasi quasi se andiamo a riprendere l'effetto tipografico in casa. Allora, vediamo il procedimento a questo punto. Potete notare che sul tavolo ho questa base, apriamola un attimo, in pratica possiamo trovare la base magnetica dove noi andiamo ad appoggiare la nostra placca. Vedete, resta ferma perché comunque non scappa da nessuna parte. Troviamo già la base squadrata che potrebbe facilitare a posizionare le nostre card ed avere una stampa molto precisa. Quindi a questo punto noi guardiamo bene e mettiamo nella parte centrale la nostra placca. In effetti non vi ho mostrato, ma questa placca è bellissima per un progetto così natalizio, in oil, molto bella. Quindi andiamo a metterla al centro. Ci servono degli inchiostri, inchiostri particolari perché a questo punto andremo a utilizzare la carta di cotone che rende molto meglio il risultato finale. In più, visto che è previsto poi dare qualche tocco con, ritocco con gli acquarelli, possiamo assolutamente giocare e la carta di cotone ci permette di ottenere dei effetti particolari. Adesso vedrete. Ok, quindi proseguiamo. Scegliamo il colore. Io a questo punto vado a scegliere il nero che sarà molto più facile poi colorare ed abbinare e creare il progetto finale. Mettiamo l'inchiostro. Vado a tamponare. Non vado a sfregare perché a questo punto forse potrebbe lasciare delle impronte particolari. Invece andiamo a tamponare per ricoprire tutta la superficie della placca. Ok. In realtà il produttore di queste Better Press, le chiamano così, questo meraviglioso attrezzo, hanno proposto diversi colori. Possiamo notare qui. Abbiamo gli altri set dei colori che possono aiutarvi a ampliare e a rendere le carte divertenti, non solo per i progetti natalizi. Quindi qui ho finito di timbrare, mettere in fiostro proprio il color nero. Fatto questo, noi dobbiamo andare e posizionare sulla sopraficie il nostro cartoncino di cotone. A questo punto mi serve soltanto fissarlo con un washi tape o un scotch di carta. Così resta bello fisso. E andiamo a posizionare sopra. Quando sentiamo click vuol dire che il coperchio ha trovato il suo posto normale, perché a questo punto potete notare che il nostro foglio non va a toccare la base. Per creare questa stampa noi abbiamo bisogno della Big Shot o qualsiasi costellatrice avete. Ok, ora abbiamo posizionato la nostra macchina costellatrice. Dobbiamo mettere la base della nostra Better Press e andiamo a passare lentamente nella Big Shot. A questo punto il coperchio viene schiacciato dal meccanismo perciò comincia a timbrare, diciamo riprodurre il disegno che abbiamo sulla placca. Basta togliere il coperchio perché viene facilmente tolto perché ha la base magnetica ed ecco qua il risultato. Inoltre queste placche, vorrei raccontarvi un po', sono di metallo perciò sono molto facili da utilizzare abbinandoli con un'altra tecnica che si chiama Hot Foil Stamping. Abbinando con Foil noi riusciamo a cambiare totalmente l'aspetto della futura card utilizzando sempre la stessa placca. Togliamo lo scotch e ora non ci resta nient'altro che andare a colorare un po' con acquarelli e creare qualche dettaglio, arricchire il nostro progetto. Ok, adesso possiamo anche procedere con colorazione con gli acquarelli visto che è la carta di cotone perciò ci permette di svolgere il procedimento al massimo. Se proprio avete bisogno e sicuramente tante creative hanno la passione per le fustelle potete poi migliorare l'aspetto della futura card utilizzando varie fustelle. Magari nel mio caso non ho centrato bene quindi con una fustella posso andare a rimediare e migliorare l'aspetto oppure centrare la stampa. Ok, a questo punto ci servono gli acquarelli. Prendiamo un pennellino, un po' d'acqua e colore e partiamo. Ho scelto il pennello sottilissimo perché qui noi abbiamo dei dettagli minuscoli e per avere più precisione preferisco utilizzare un pennello sottile. Prendiamo un po' di colore, andiamo a diluire, ho qui già messo un colore rosso brillante per riprendere un po' il progetto di Natale. Vado a scaricare il cesso di umidità e cominciamo a colorare. Giustamente per poter cambiare il risultato oppure quando dovete fare diverse card potete sostituire il colore dell'inchiostro e nel mio caso abbiamo scelto nero ma viene anche molto bello quando si può utilizzare qualcosa di verde per imitare vecchio effetto letterpress, qualcosa del genere. Andiamo a colorare, abbiamo qui una stella di Natale e un simbolo molto tradizionale e quindi possiamo ritoccare un po'. Giustamente se vi piace già l'effetto questo passaggio potete anche saltare oppure ritoccare soltanto qualche spazio di dettaglio. A me piace anche intervenire con l'inchiostro di stress, andare magari a distressare un po' dei bordi per far invecchiare la carta e creare ancora dei effetti interessanti. Qui abbiamo altri esempi come la card sarà il risultato affinito, guardate questo è un progetto natalizio oppure ci sono altri progetti diciamo floreali che si può realizzare delle carte interessanti per il buon pomplio anno e così via. Ci sono alcuni dettagli coloratissimi qui, la stessa stampa, la stessa placca ma utilizzata in maniera diversa. Qui ho aggiunto il foil, poi ho colorato con il dacquarelli per ottenere una card coloratissima con colori autunnali. oppure anche così cambiando drasticamente diciamo il colore dell'inchiostro. Abbiamo anche così, semplice semplice, qualcosa di colorato. Quindi qui secondo me dipende se volete ottenere l'effetto colorato, basta passare con colori oppure anche da solo già presenta, ha un aspetto gradevole così retro. Come potete vedere questa tecnica si può utilizzare per diversi progetti, non soltanto natalizi e si può ottenere dei fetti particolari colorando o lasciandola così. Volevo ringraziare lo staff di Fiera Creativa per questa possibilità di condividere con voi la mia passione per la carta e i colori. Ringraziamo la nostra ospite che ci ha fatto vedere una tecnica veramente bellissima, tutte le novità anche americane riviste in questo bellissimo video. Io la ringrazio veramente tanto, ricordo a tutte le amiche di seguire le pagine di Fiera Creativa per scoprire tutte le nostre news e continuare a seguire tutti i video di Creativa Channel. Alla prossima puntata, sempre con tanta voglia di creare. Alla prossima puntata, sempre con tanta voglia di creare.